Denada, ma dove sei? Noi stiamo per iniziare Wax, le donne nel pallone, la nostra rubrica per Nova Stadio. In diretta siamo qui, io Francesca, ti aspettiamo, ma insomma, Denada! Ma dai Stefania, lo sai che Denada ha l'inseguimento di Wax per scoprire tutto il gossip sul calcio che conta? Eh, anche di più, anche di più. Eccomi ragazzi, oggi condurremo tutto, tutto, anche Nova Stadio. No, 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 carne, no, 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 perché ci siamo anche noi, eh? No, 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 via! Wax è roba nostra! Wax è roba nostra!